anno scolastico ai nastri di partenza e come ogni anno le famiglie molisane si ritrovano a far fronte all'acquisto di diari astucci zaini quaderni e libri una vera e propria stangata che arriva a pensare fino a 1100 euro per ogni studente tra corredo materiale scolastico e libri di testo in base ai dati del codacons la spesa per i testi estremamente variabile e dipende non solo dal livello di istruzione ma anche dalle scelte dei singoli istituti tanto da variare dai 280 euro fino a raggiungere quota 600 quindi la spesa complessiva può raggiungere superare i 1100 euro a studente a tal riguardo il codacons ha deciso di fornire una serie di consigli alle famiglie molisane per consentire di risparmiare sensibilmente nella spesa scolastica e abbattere i costi fino al 40 per cento non inseguite le mode in questi giorni tutte le televisioni stanno bombardando i ragazzi con la pubblicità mirate agli acquisti necessari per la scuola supermercato nei supermercati si può arrivare a risparmiare fino al 30 per cento rispetto alla cartolibreria rinviate gli acquisti quaderni e penne si possono anche comprare in un momento successivo aspettate i professori per le cose più tecniche infine offerte promozionali e kit a prezzo fisso benvengono possono essere convenienti in questo modo si spera di poter affrontare i prossimi mesi scolastici con più serenità e soprattutto con il portafogli che non sia marchiato in rosso